Buongiorno, sono Roberto Nardacchione, sono responsabile della unità di chirurgia del ginocchio del Policlinico Abano Terme. La mia unità è composta oltre a me da altri 9 medici, tutti specialisti in ortopedia e ci interessiamo di tutta la patologia relativa del ginocchio. Il Policlinico di Abano è un presidio ospedaliero privato e convenzionato, quindi è in rete con la struttura ospedaliera padovana. La nostra attività è legata alla chirurgia del ginocchio, quindi alla patologia del ginocchio. Effettuiamo interventi relativi alla patologia del ginocchio che vanno dalle cose più semplici, che possono essere piccole problematiche all'interno del ginocchio, fino alla patologia degenerativa, quindi la patologia artrosica che ci coinvolge per un numero piuttosto consistente di interventi durante l'anno. La patologia degenerativa è l'artrosi, quindi nella patologia artrosica noi individuiamo vari gradi, vari livelli di problematiche e quindi possiamo risolvere piccoli problemi artrosici come problemi più importanti. Per quanto riguarda la chirurgia protesica, noi siamo in grado quindi di sostituire come si diceva una piccola parte del ginocchio, quindi impiantiamo delle protesi monocompartimentali che possono coinvolgere la componente mediale, la componente laterale o la componente femororotulia, qualche volta anche l'associazione tra la componente interna e quella femororotulia. Nelle protesi totali rivestiamo tutta la superficie articolare. La chirurgia effettuata con maggior frequenza è la chirurgia protesica maggiore, quella che coinvolge tutto il ginocchio. Anche se la protesi di ginocchio parziale apparentemente possa imparare più semplice, in realtà è un intervento che nasconde molte insidie. Questo spiega anche perché l'indicazione non viene data con tanta frequenza, in quanto il chirurgo è più predisposto a proporre una protesi totale anziché una protesi monocompartimentale. La possibilità di utilizzare un sistema che sposa una serie di nuove tecnologie, dalla diagnostica ad altissima definizione, alla chirurgia navigata e alla chirurgia robotizzata, ci ha permesso di semplificare l'intervento di protesi monocompartimentale e quindi ci ha permesso di allargare anche le indicazioni, perché molte protesi che abitualmente si impiantano totali, per la verità guardando bene potevano richiedere anche una protesi parziale. Quindi dall'inizio di quest'anno abbiamo iniziato questo percorso che ci ha visto presenti negli Stati Uniti per acquisire questa nuova tecnologia e dai primi dell'anno abbiamo cominciato a impiantare le protesi monocompartimentali con il sistema di chirurgia robotizzata. È noto che la protesi monocompartimentale, quindi parziale del ginocchio, coinvolge una piccola parte del ginocchio e gli interventi vengono fatti nel rispetto dei legamenti e di tutto il resto dell'ambito articolare. Quindi è più difficile bilanciare i legamenti, è più difficile posizionare in maniera corretta la protesi, in quanto lo spazio è sempre piccolo e quindi non sempre si riesce ad essere così precisi, tant'è che una grossa percentuale di interventi di protesi monocompartimentali purtroppo non va davvero a buon fine in quanto ci sono proprio dei difetti legati proprio all'intervento. L'utilizzo di questa nuova tecnica ci ha permesso di ridurre moltissimo i margini di errore. La tecnica chirurgica robotizzata prevede una serie di passaggi, il primo è di tipo diagnostico e utilizziamo un'attacca articolare ad alta definizione che ci permette di fare un studio preoperatorio e quindi un intervento virtuale nel quale posizioniamo per misura e anche proprio per orientamento la protesi nel modo migliore possibile. A questa fase segue una fase chirurgica nel quale noi con tecnica navigata facciamo riconoscere il nostro ginocchio a un sistema a infrarossi e quindi a un sistema computerizzato e quindi siamo in grado prima ancora di cominciare l'intervento verproprio di interfacciare, cioè di mettere a confronto quella che è stata l'immagine e i dati virtuali con quanto abbiamo acquisito direttamente sul campo operatorio. Finita questa fase il chirurgo è in grado anche di considerare un bilancio articolare in modo da posizionare la protesi con il giusto controllo della tenuta dei legamenti. A questa fase segue la fase di chirurgia robotizzata, una volta che noi abbiamo acquisito i dati e abbiamo accettato il nostro progetto chirurgico facciamo riconoscere al nostro sistema di navigazione il braccio robotizzato che il chirurgo guiderà per l'intervento che è la fase finale, comunque la fase importante della definitiva dell'operazione. Quindi con un piccolo taglio e guardando un monitor il chirurgo è in grado di asportare giusto quello che occorre per posizionare la protesi nella migliore maniera possibile, per cui non è possibile uscire da quello che era il programma e quindi la parte chirurgica è una parte con dei margini di errore veramente irrisori. Come ho già accennato l'indicazione quindi è l'artrosi parziale del ginocchio, quindi quando solo una delle parti del ginocchio va a essere coinvolta che può essere la parte interna o la parte esterna o l'articolazione tra la rotula e il femore. Abbiamo un'esperienza di quasi 11 mesi e di più di 100 pazienti operati con risultati che naturalmente sono a breve però assolutamente soddisfacenti. Il recupero funzionale è ottimo già dalle prime ore, il paziente viene messo in piedi a camminare dopo un paio di ore dall'intervento, il disagio è modestissimo e non è prevista neanche nei primi giorni una procedura di riabilitazione molto aggressiva in quanto il paziente non ha bisogno neanche di essere mosso in maniera eccessiva. Il programma riabilitativo successivo prevede un training di rieducazione al passo e di potenziamento muscolare. Generalmente le stampelle si abbandonano dopo 20-25 giorni. La possibilità di avere dei presidi con questo margine di qualità diventa indispensabile quindi credo che nel futuro questo sia una metodica che dovrà coinvolgere necessariamente la chirurgia ortopedica complessivamente. Noi siamo fortunati perché ce l'abbiamo già in casa e adesso possiamo godercelo ma credo comunque che abbia un futuro veramente felice.